Bella a tutti i ragazzi, ben rintornati sul canale dell'Appetizer, siamo qua con il King, il Lord Supremo, il più forte di tutti Ce l'abbiamo fatta raga E il Muse Il buon Muselli Ho usato il mazzo del maestro Il mazzo del maestro del figlio di Cristo E allora lo commessi E solo perché non ho preso dama contro Ah, eccolo lì, eccolo lì Solo per quello Solo per quello Dai, cosa hai combinato? A miglia a Londone, cosa hai giocato? Ho fatto top 6 e ho giocato il mazzo del maestro Ecco, bellissimo La lista ovviamente non è la mia perché al rete non avrebbe mai fatto top 16 Però Ma neanche le mani, mi sa, eh Neanche le mani, ma neanche quelle Farcelo tempo, devo prendere Dai, vediamo la profella al volo Allora, stiamo giocando a tre ferrier Alti metteri sul del maestro Perché sono solo sono morti, se no non giocare i due Come spingueva Muse? Ogni volta che lo calava, aggiungeva tre Tra l'altro, ragazzi, guardate il tappetino cosa spinge Mamma mia, se spinge Ma quanto l'ora tira Galactus? Due cinquanta, che meno Tre unicorni americani Perché il maestro spingue ragazzi Spingue di Cristo Due di questi Due bimbi Esatto, perché tre sono troppi Uno è troppo forte Sempre in mano quel bastardo Sì, sì Ogare È più forte Quattro lock cinque Tutte le partite Easy cuomo Senza paura il nostro supereroe Senza paura Penso che è forte nella combo perché lo riaggiungi di Papayas Lo riaggiungi Di Papini Un saluto a Ciccio Papini Ciccio Papini Per la consistenza Ma la top der Begrudigen qua Che cazzo è? Minchia, cruccone Questo qua è segno di Ciccio Spie E altro col baffettino la Hitler Ci dissociamo Questo è giusto perché giocava Adam e Floander Allora, mettiamo Mi sembra corretto Qua ti pesca bene Queste perché sono troppo forti Sì, è diverso Per avere qualche target di unicorno Giusto, approviamo Tanto unicorno te lo dà già questa carta Poi il terreno Avrei giocato Mina Però non c'è più Non c'è più Beh, ma Musè Se c'era Mina giocavi Sky Ammettilo Se c'era Mina giocavo Sky Poi queste perché Non voglio perdere da Darkwood Ciccia Questa è incredibile Quanti testi hai beccato? Zero Ecco, palestra Easy one more Tre di questi Orca troia E due di questi perché sei FTK Allora no Questa carta qua E poi aspetta Ma vi ricordo che ci sono persone Che non sanno che su questa puoi tirare Ashes Sì, no, un mese fa non lo sapevo Sì Comunque, il Joypad Questo per giocare a FIFA a casa Un signore Big Bang Perché sono l'atalonda Devevo vedere il Big Bang Orca Vigliala l'or E il talento Molto per speziata Quando lo pesco Tira sempre Ashes E mi guardi la mano E togli di più Gli occhi 5 E faccia Easy one more Allora Extra la cosa più importante Ci tocca I tocca Allora Due Shangri là Perché non avevo il testo Perfetto Via Due paume Due Zeus Sì Uno umile Uno no Ma se come spirito Sono tuoi questi O li rubi agli altri? No, li rubo Palese Palese Ma poi Aspetta Aspetta Non è questo Non è questo Non è questo Sì, è un altro Ma questo non l'ho mai calato Però è solo questo Mi sembra corretto E quando l'ho calato Non c'è un altro Un ringraziamento al maestro Che fornisce pure Il mazzo Max Reality Anche perché Max Reality È intergettabile Tra l'altro Cioè Se lo evo chi questo C'ha perennemente sotto questo Carta forte Entra direttamente Con Golià Su Poi due Grande occhio Perché Mi piace rubare Il secondo coetano Vabbè D'altronde D'altronde All'intervista Ti presenti con la serpa del Napoli Un barone Perché è barone Non voleva quello con l'hector Perché rimaniamo umili Un saluto a Barwan Sessa Uno di questi Che non so Ti chiedeci ne è Però mi sembra Abbastanza raro E Darkheart Mette forte Mette i più sencini Tipo Damo non ci interessa Questo per cancrare E bannare tutto Sì Easy one more Fai un saluto Bargar Uno di questi Sì Perché sì Sì E uno di questi Per cancrare con ieri Sì Parato pulito Sì Eccola qua La side La card più forte è la side Eccola qua Che tocco ragazzi Quante volte tirata? Sempre Tre volte Dai Tre volte Quante volte sei vinto? Tre volte Easy one more Questa Questa è la side Poi la carta più forte Contro Darkheart Si Ma non smetti di giocare I crocconi? Tutte erano perdite Ma farcono tutte Quelle di lettere Così a meno Joshua Le leggeva bene E poi Monopointer Carta incredibile Che non ho mai attivato Però Perché perde il tempo Museo È il designatore del loto rosso E niente È incazzato Diciamolo Perché è il buon Museo Qua in corsa Per il mondiale È il mondiale Quindi ai prossimi eventi Se lo beccate Concedete Sono anche i tuoi cari Tanto Però di non fare come l'Italia Che non va al mondiale Eh Hai parlato pulito Museo Hai parlato proprio pulito Eh dai E niente Qualche considerazione? No Il mazzo è il più forte del meta Solamente Il maestro Quindi è il best death Best death Sì Ma solo io riesco a brincarci Per tre Immagini paralisi Chi da te Che cazzo Che cazzo Che cazzo Sì Quella che fanno Speciale Vive i bobi Del mazzo Dio Ponte Lo volevamo portare a casa Però Siamo Che abbiamo provato Ma se avresti smattato Il francese Era imbattibile In finale Ce la poteva fare Figa Ma possiamo provare Il cicciolio di merda No Ma era quello macro No no Fermo È grasso anche lui Quindi non è body shaming Eh dai La prossima volta Lo portiamo a casa Vabbè Museo Se tu in finale Ti beccavi doppia curicara Che ti la viene accoltellata Quindi Ma è bello Che il suo maro Fognava ridere Guardavolo Un po' rideva Tanto fa la vita Se le sentite Io non mi prendiamo curicara Perché facevo questo E allora no Come si toccano le bambine qua ragazzi Grazie mille per la profile Muse E niente Rituriamo anche all'altra profile Quella un po' più sensata Che ho fatto per Royal Player Ringraziamo anche loro Un saluto ai ragazzi Ci mettiamo ai prossimi eventi Pronti a farvi scoppolare Da maestro Ci vediamo ad Alessandria ragazzi E ammuzzate tutti quanti Perché schifo poco occhio Grazie a tutti